Non deve cadere, palline e pallone subito, anche più veloci. Deve restare in equilibrio, sulle palle. Sì, bravi. Sì, hanno capito come si lancia, stanno vicini, bravi. Sì, sì. Sì, ok col piede sopra. Adesso quando fischio, sempre con il piede debole, festiamo sopra e lo facciamo tornare indietro, cambiamo direzione. Se stiamo andando avanti andiamo dall'altra parte. Quando fischio io, sempre con il piede debole. Si festa sulla palla e si cambia direzione, correndo eh, Giacomo, vale. Non si sta fermi. Festando sulla palla eh, Anas. Teniamo la palla vicina. Passo sopra con uno, sopra con l'altro e la porto via d'interno. Sopra, sopra e via con l'interno, sì. Sì, bravo Manu. Sì, bravo Manu. Bravo Pietro. Sì, portiamolo via eh, non tocchiamo i birilli. Passo sopra con un piede e vado via d'esterno. Anche l'altro piede eh. Siamo quattro colori. Devo solo passare un colore diverso eh. Muoviamoci, muoviamoci, siamo fermi. Sì. Facciamoci vedere. Arancio, giallo, nero, verde. Sì, muoviamoci. Sì, muoviamoci. Nero, verde. Nero, verde. adesso si cambia giallo nero arancio verde nessuno verbo in mezzo in mezzo stretti, girare, girare in mezzo, in mezzo, in mezzo io ti cerchi in mezzo in mezzo, muoversi muoversi Ale, strategia, muoversi via Anas vai Ale questo è da due due, tre, caccia bello, niente vai Manu quello che volete, Ale l'ha fatto Manu l'ha fatto no, non sbaglia Ale, dai oh, no, 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 no non 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 Grazie a tutti.